è dietro l'angolo forza proseguiamo ragazzina guarda qui su e di là ecco ci siamo ci siamo quasi tess per la cronaca non solo guarda sembra bassa sul lato destro seguimi sono felice che marlene ti abbia ingaggiato che intendi so che vi avete pagato per questo sì certo no 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 e ora che facciamo che stai facendo tess magari c'è avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare fino a che punto dobbiamo arrivare dove serve arrivare dove era il loro laboratorio non l'ha mai detto so solo che si trova da qualche parte a ovest che ci facciamo qui questo non è da noi che ne sai di noi dimmi so che sei meglio di tutto questo ah sì sai una cosa siamo persone di merda Joel e da molto tempo ormai no siamo sopravvissuti stavolta possiamo è finita Tess ci abbiamo provato ora andiamo a casa no io non vado da nessuna parte questa è la mia ultima tappa cosa la fortuna doveva finire prima o poi ma di che cavolo stai no no non toccarmi oh Cristo è infetta Joel fammi vedere non volevo fammi vedere oh Cristo oh ops giusto dammi il braccio questo ha tre settimane mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato cazzo questo è tutto vero Joel devi portare la ragazza da Tommy faceva parte di questa squadra saprà dove andare no 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 quella era la tua crociata e io non la porterò avanti sì lo farai senti dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti questa volta è diverso quindi portala da Tommy merda oh cazzo sono qui posso farvi guadagnare tempo ma dovete correre cosa? vorresti che ti lasciassimo qui? sì non ti lascia sola per io non mi trasformo in uno di quei cosi ti prego rendimi le cose facili posso farcela no vai e basta vai via cazzo Ellie mi spiace io non volevo andasse così dati una mossa sappiamo che siete lì gettate le armi e venite fuori con le mani alzate ma che cazzo non posso credere che l'abbiamo fatto basta l'abbiamo lasciata morire basta stammi vicino dobbiamo muoverci oh cavolo andiamo di sopra da lì forse potremo uscire va avanti basta per farlo neutralizzato ha eliminato due domini uomini ti servono tu abbatti la porta tu con me signor Semi Tess saranno qui molto presto dobbiamo muoverci cavolo scappano nell'ingresso attirateli che facciamo Joel provo io vediamo il pochettone giù Gesù Joel giù la testa leccare leccare a rinutire uccidio di puttana ok E le forze. Dai forza. Che facciamo? Joel, come usciamo da qui? Ok, dobbiamo passare dal salone. Sta giù, non so quanti altri ce ne siano. Eccolo qui! Caracca, Gio! Eccolo qui. Sì, 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 sì. Joel, ecco l'uscita. La vedo. Ci sono delle scale là. Stai giù. Stai giù. Tieni la posizione e accendi i posti. Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mettendo. Li hai visti? No, il posto è vuoto.